Bisogna saper accantonare la polemica politica quando è lo Stato, non questo o quel governo, ad essere sotto attacco La minaccia degli anarco-insurrezionalisti, che si stanno saldando con gruppi antagonisti e rimasugli del terrorismo, è alle istituzioni democratiche Lo afferma il ministro della difesa, Guido Crosetto, in un tweet Infatti Guido, ed è per cementare questa unità che Donzelli e Del Mastro, vanno ripetendo che la sinistra si inchina ai mafiosi Scrive su Twitter Carlo Calenda, l'unità si ottiene con il rispetto reciproco e l'uso attento e mai strumentale vs minoranze dei poteri dello Stato Il contrario di ciò che avete fatto